Ciao, sono Ian Whittaker. Voglio mostrare in meno di due minuti come si può togliere una seggia o una spina dalla pelle. Senza sangue, sudore, lacrime, pinzette, colletti. È utile per gli adulti ma soprattutto i bambini. Ecco il mio dito. Si può vedere una seggia che è stata lì per un giorno. Ora vi mostrerà come rimuoverlo. Se dispone di una seggia profonda o più grande non è un problema. Non è importante. Questo sistema funziona lo stesso. Hai bisogno di mani pollute e un tavolo polluto. Tutti sterilizzati. Avete bisogno di un po' di sapone normale. Il nome no importante. Zucchero. Un colletto per tagliare il sapone così. E un serotto. Il primo passo è quello di tagliare un piccolo pezzo di sapone così. Quindi ottenere la stessa quantità di zucchero. Però non deve essere preciso. Impastare insieme. Non importa in caso di rottura di sapone. E continuare a spingere insieme. Come si esegue questa operazione. Il sapone riscalda del dita. E questo vi aiuterà. Il risultato sarà un po' di confusione. E un piccolo pezzo di sapone e zucchero. Che devi usare. Il passo successivo è quello di lavarsi le mani. E poi prendere il serotto. Così. Metti il sapone al centro. e attaccare il serotto al dito. Posizionare il sapone sopra la seggia. Devi essere sicuro che il sapone non va a muovere fuori di posizione. e devi mantenere questa per due, tre o quattro giorni. Ogni giorno, quando si lava le mani, metti un nuovo sapone, il serotto, e si verrà la seggia, si è supposto, più vicino alla superficie. E' controllare regolarmente che è pulito e niente sta andando male. E dipende. A volte, solo due giorni. In altre case, quattro giorni. Devi solamente controllare ogni giorno.